Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono code a tratti tra il Bivio per la 11 e il Bivio per la variante di Valico. In direzione Roma ancora per traffico intenso rallentamenti sulla direttissima tra il Bivio A1 variante e Firenzuola e nel tratto tra Valdarno e Arezzo. Sulla A11 segnaliamo che l'area di servizio di Migliarino Sud in direzione Firenze è sprovvista di benzina. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in pruneta. I treni per accertamenti dell'autorità giudiziaria nella stazione di Firenze Rifredi sulla linea potrebbero esserci ritardi o variazione al momento la circolazione ferroviaria è sospesa. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!